Oggi la mia visita è una visita che mi dà la possibilità di vedere e approfondire alcuni aspetti importanti di cura e di ricerca nell'ambito dei diversi reparti che ho visitato, quindi il reparto di diagnostica sanologica, il reparto di neonatologia, il reparto di oncologia, il reparto di ginecologia, quindi una visita come sempre che mi dà la possibilità di rendermi conto meglio di quelle che sono le eccellenze da un lato ma anche le esigenze dall'altro. E di fatti rispetto a questo ho già indicato due punti che ritengo importanti, il fatto che a breve avremo la configurazione di questa struttura come IRCS e quindi dopo 42 anni un IRCS pubblico in Lombardia. Il secondo punto è la dotazione di un robot chirurgico per questa struttura, come avevamo detto, la regione Lombardia vuole dotare ogni provincia di un apparecchiatore di robot e quindi anche Monza avrà il suo robot.